Un altro pacchetto per il mio progetto, la musica a casa vostra, e qui parliamo dell'orchestra La Storia di Romagna. Tre bellissimi CD, un'enciclopedia delle bellissime musiche del maestro secondo Casadei, ovviamente interpretate dalla grande orchestra La Storia di Romagna. Qui trovate brani come Terremoto, Signori si nasce, Atomica 62, La mazzurca della sabato sera, La mazzurca popolare, Non c'è pace fra gli ulivi, Super Valzer, Vecchia Serenata, Le ragazze del Po, La grande bellissima Fuga, una polca scatenata famosissima, tutto contenuto in questi tre bellissimi CD. Vi ricordo il prezzo è sempre quello, solo 39 euro, compreso di spese di spedizione in tutta Italia e ovviamente di contrassegno. Quando arriva il postino e vi suona la porta non dovete fare altro che ritirare il pacco e consegnare 39 euro in contanti. E con questo bellissimo pacchetto dedicato alla storia di Romagna in regalo, una compilation, un CD di grandi artisti, dove c'è in primo piano il brano Non starmi vicino di Rosi Forte che ha avuto davvero tanto successo, ma anche tanti bellissimi altri brani. Con questo pacchetto nuovo La storia di Romagna in regalo il bellissimo CD compilation a soli 39 euro. Praticamente le spese di spedizione e di contrassegno le paghiamo noi, ma questo perché vogliamo che la nostra grande musica entri nelle vostre case. Come dico sempre, la musica è vita, quindi aspetto le vostre telefonate.